Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un olio vegetale che è l'olio di neem, detto anche olio di neem. È un olio che viene ricavato dalla spremitura di freddo dei semi di una pianta originaria e sacra di linee, infatti viene utilizzato soprattutto nella medicina ayurvedica. Il suo utilizzo principale è dato da una molecola, anche troviamo al suo interno, che ha un'azione parasitaria, antiparasitaria, antibatterica, antimicrobica. Questa molecola lo rende adatto per le zecche e le pulci degli animali, cani e gatti, per i parassiti, gli afali delle piante, ma anche in caso di, sebbene eccesso, sia del viso, corpo e capelli, ma anche in caso di pidocchi nei bambini e anche per allontanare gli insetti e le zanzare dagli ambienti. Come utilizzarlo? Allora adesso vi darò dei consigli su come utilizzarlo sia per le piante, si fa un trigger, ossia un nebulizzatore anche da mezzo litro con dell'acqua, si aggiunge un cucchiaio di olio di neem, un cucchiaio di sapone liquido di marsiglia oppure in scaglie, meglio il tutto prepararlo caldo e poi aspettare che si intiepidisca oppure utilizzarlo anche da freddo, con dell'olio essenziale di chiodi di garofano. Con azione antibatterica, antiparasitario, si può spruzzare direttamente sulle foglie in caso di parassiti. Per quanto riguarda invece gli animali si può fare sempre con un cucchiaino da un cucchiaino da caffè di olio di neem su una bacinella dell'acqua per il bagnetto oppure utilizzarlo direttamente sul pelo degli animali anche con l'aggiunta degli oli essenziali tipo ad esempio di tea tree con azione antibatterica. sulla cute del viso per seguire in eccesso anche per il cuoio capelluto si può frizionare con dell'olio essenziale di limone, lavanda o sempre tea tree oppure per allontanare zanzare e insetti dall'ambiente preparare un trigger con mezzo litro d'acqua con un cucchiaio da tavola di olio di neem con dell'olio essenziale di girane o limone oppure citronella. Grazie a tutti.